Accanto a me il dottor Antonio Caruba dell'ARPA di Trapani, un consiglio comunale, quello di oggi, molto esplicativo, soprattutto grazie al suo intervento, lei ha parlato delle vasche di ossidazione che nel nostro depuratore non funzionano, questa è una delle cause di questi cattivi odori. Sì, in effetti nei due sopralluoghi che abbiamo effettuato presso l'impianto di depurazione abbiamo rilevato la presenza della vasca di ossidazione ma che la stessa non è in funzione perché manca dei presidi utili per effettuare questo tipo di attività. E pertanto praticamente la mancata ossidazione non consente la possibilità appunto di ossidare diciamo quei fanghi organici e quindi questi vanno incontro a fenomeni appunto di putrefazione che poi causano diciamo per grandi linee quelle che sono i cattivi odori che poi sono stati poi percepiti diciamo dalla popolazione. Si parlava anche di ripercussioni per quanto riguarda anche la salute pubblica, chiariamo anche questo aspetto. Beh, per quanto riguarda l'aspetto salute pubblica, per ciò che attiene diciamo la presenza di questi cattivi odori, vorrei un po' tranquillizzare la popolazione perché questi gas, questi miasmi diciamo respirati ben a distanza, essendo diciamo più che altro di origine organica, sono semplicemente molesti diciamo per l'olfatto anche a causa di disagi ma non di vere e proprie situazioni di pericolo per la popolazione. Quindi abbiamo detto che nel nostro depuratore l'impianto di ossidazione non funziona, lei parlava anche però dell'impianto di disinfezione, giusto? A cosa serve? Vorrei fare una piccola precisazione, diciamo che non è presente la vasca di ossidazione, ci sono altre parti dell'impianto che sono funzionanti. Poi nell'ambito dell'impianto di depurazione manca pure la disinfezione diciamo finale dei refui che è causa appunto dell'alto numero, dell'alto valore di scherichi a coli presenti nello scarico in uscita. Una domanda che ha fatto in aula l'onorevole Tancredi, una domanda che ormai ovviamente ci poniamo tutti, secondo lei ovviamente a suo parere era il caso di iniziare, quindi aprire, accendere un depuratore che ha mancanze così grandi? Diciamo che l'ARPA ha un aspetto di controllo successivo a quello che è appunto l'autorizzazione e quindi l'inizio dell'attività dei depuratori. Così com'è il depuratore senza la vasca forse un attimino bisognava in effetti pensare se era il caso o meno di metterlo in funzione.